noi guardiani possiamo avere una sola pietra io sono uno dei guardiani di atlantide trovate le pietre e fatele sparire il loro potere troppo pericoloso per finire in mani sbagliate così è e così deve essere se tu dovessi scrivere il tuo testamento scriveresti le sue piragini non sono ancora riuscito a capire come mai ci siamo lasciati ecco per parlare con un bambino elementare leggi qua dal tantide non si sa nemmeno che cosa sia ah va bene la storia non cambia non è che possiamo metterci a cercare dei sassi mi daresti una mano a capire cosa sono questi guardiani dell'antide l'antica pietra dedicata di colore marrone denominata pietra del coraggio l'unica soluzione è che i tuoi numeri indichino il cantale non abbiamo portato le pietre qui con noi sentivamo tutta di bruciato beh in alcuni film per adulti certe cose sono facili grazie a tutti Grazie a tutti.